L.A. Gazzetta dello sport, apertura salintervista al fuoriclasse del Milan, Leao, divento papà e cambio. In taglio alto, focus su Jacobs presto in pista a Parigi, rivinco io. In spalla il calciomercato. Corriere dello sport, titolo principale sul mercato dei bianconeri, Juve, Coupe si avvicina. In taglio alto, le medaglie azzurre conseguite ieri, argento vivo. In spalla e in taglio basso le ultime notizie sul calciomercato. Tutto sport. Anche in questo caso il titolo principale è dedicato alla vecchia signora. Un golden boy per la Juve. In taglio alto, focus sulle olimpiadi e titolo sulle parole di Jacobs. Sono qui per loro. In spalla, il calciomercato del Torino. In taglio basso, Nobappe compra il Kaenda Ok3. E Giang vuole la Portimonense. Ian Couto atteso al Borussia Dortmund. Domani le visite mediche, a fare da 25 milioni. Il Manchester City e il Borussia Dortmund hanno raggiunto l'atteso accordo per il trasferimento, secondo gli ultimi aggiornamenti lanciati da Sky Sports Day. Il 22enne partirà dal Brasile per la Svizzera domani, dove si sottoporrà alle visite mediche e scenderà in campo con i suoi nuovi colleghi a Bad Ragaz, il centro di allenamento del club giallonero, questa settimana. Affare sigillato dunque in prestito con obbligo di riscatto del valore per 25 milioni di euro. Couto, una volta superato l'iter di visite mediche, firmerà un contratto dalla durata di 5 anni, fino al 2029. Merino o l'Arsenal, affare in discesa, al via libera della Real Sociedad potrà volare a Londra. Michel Merino è a un passo dall'Arsenal. Manca davvero poco per vedere il centrocampista spagnolo con la maglia dei Gunners indosso e dopo aver ascoltato le offerte di Barcellona e Atletico Madrid, il giocatore ha deciso di accettare la corte del club inglese. L'accordo per il trasferimento in Premier League è stato perfezionato, anche se Manca stando a quanto riporta Sport ancora l'approvazione della Real Sociedad per poter far circolare l'annuncio dell'ingaggio dello spagnolo classe 96 o l'Arsenal. Un acquisto indirittura d'arrivo è fortemente voluto da Michel Arteta, che ha prestato parecchia attenzione all'evoluzione del giocatore in questi anni, e ho l'apice raggiunto anche in Champions League e con la nazionale spagnola agli europei. Dov BYK dice no, L Atletico si consola con Sorlott. Tarda però il via libera del Via Real. Sfumato quasi del tutto Dov BYK, ormai diretto alla Roma, L Atletico Madrid non ha perso tempo per leccarsi le ferite, ed ora è a un passo dall'ingaggio di Alexander Sorlott. L'attaccante del Villarreal, che era finito anche nel mirino dei giallorossi prima dell'affondo per il centravanti ucraino, andrà a coprire il vuoto lasciato da Morata nei ranghi del ciolo Simeone. Tanti saluti Premier, per Icanaccio ora c'è il Siviglia, ha firmato per due anni con opzione. Addio alle vecchie abitudini della Premier League, imparate tra il Manchester City e il Leicester. Dopo nove anni di crescita personale in uno dei campionati più competitivi del vecchio continente, ora perché l'Ecchi Icanaccio è arrivato il momento di ricominciare. Di spiccare il volo altrove, precisamente nella Liga, con il Siviglia, per cui ha firmato ufficialmente un contratto biennale con opzione di prolungamento per 12 mesi. La punta centrale nigeriana arriva da parametro zero. Joao Felix in un limbo, lui sogna il Barcellona, intanto il Benfica riapre i contatti con L Atletico. Ora però è tempo di riportare i piedi per terra. Joao Felix ha un contratto che lo lega all'Atletico Madrid, fino al 2029, anche se contava di poter tornare definitivamente al Barcellona quest'estate. Ma non c'è stato un vero e proprio tentativo di sfondamento da parte del club catalano, peraltro impegnato con l'ingaggio di Dani Olmo e alcune problematiche finanziarie. L'Aston Villa e il Fenerbas si legge su un mondo deportivo erano interessati, ma poi si sono allontanati. Non è un mistero, tuttavia, la preferenza del giocatore per i giganti spagnoli, come ha sempre lasciato intendere anche nelle dichiarazioni pubbliche. Bayern, convocato anche Masraoui, l'intreccio con Juan Bissaka che può interessare L Inter. fra i giocatori che partiranno figura anche Nusser Masraoui, una chiamata che sa anche di notizia riguardante il calciomercato dei tedeschi. Come riporta Marca infatti, la chiamata dell'esterno marocchino avrà l'effetto di tardare le trattative avanzate con il Manchester United. Un intreccio di mercato che, come si diceva, riguarda anche altre squadre. Lui United è individuato in Masraoui il sostituto ideale per la possibile partenza di Aaron Juan Bissaka, che è corteggiato in maniera serrata dal West Ham. Barcellona, si torna alla carica per Cancelo. Ma il City non farà sconti, servono 30 milioni. Il Barca insiste per Joao Cancelo, tornato al Manchester City dopo il prestito dell'anno passato ma rimasto tra gli obiettivi del club catalano. Secondo il Daily Star, il Barcellona ha presentato un'offerta che include un costo di prestito di 7 milioni di sterline, 9 milioni di euro, e un obbligo di acquisto di 18 milioni di sterline, 23 milioni di euro, che entrerà in vigore alla fine del periodo di prestito. Questo accordo strutturato, stando al quotidiano inglese, conferma le difficoltà finanziarie del club catalano. Joao Neves al PSG, atteso entro venerdì a Parigi per le visite. Cifre e dettagli. Sempre più vicino l'acquisto di Joao Neves da parte del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riporta a Bola infatti, il centrocampista della nazionale portoghese è atteso a Parigi entro venerdì per sottoporsi alle visite mediche e firmare un contratto quinquennale con i parigini fino al 30 giugno 2029. È imminente dunque l'ufficialità del trasferimento di Joao Neves alla corte di Luis Enrique, in una trattativa che permetterà al Benfica di guadagnare 60 milioni di euro, più 10 milioni di bonus. Con annesso il ritorno di Renato Sanchez Aldalus, in prestito dai francesi a titolo gratuito. Venerdì scorso il giovane talento è tornato dalle vacanze dopo Euro 2024 e da allora si allena con il suo attuale club. Nottingham Forest, in arrivo Jota Silva dal Guimaraes. È soprannominato il Grealish portoghese. Ultime novità di mercato dalla Premier rivelate da Sky Sports News. Il laterale Jota Silva sta volando in Inghilterra per finalizzare il suo trasferimento al Nottingham Forest. Il Forest dovrebbe pagare al club portoghese Vittoria Guimaraes una cifra iniziale di 7 milioni di euro, 5,9 milioni di sterline, per il 24enne.